Bentornati in Crime Doors. Torniamo ad occuparci della vicenda di Liliana Resinovic. Non voglio dare per scontato che tutti conosciate questa storia e quindi cercherò di fare un breve riassunto per riportare alla mente di tutti quelli che sono i tragici eventi che hanno scandito questa vicenda. Anche perché potrebbe darsi che qualcuno di voi sia qui per la prima volta sul nostro canale o che semplicemente si stia appassionando al crime solo negli ultimi tempi. O, ancora meglio, può darsi che tra anni, mesi, settimane, questo video resterà ancora in rete e che quindi potrà essere da spunto per ulteriori riflessioni. Sono proprio i dettagli di questa storia che sicuramente vi faranno ricordare di Liliana perché il suo ritrovamento è stato molto molto singolare. Ad oggi il caso era stato archiviato già una volta come suicidio. Liliana scompare il 14 dicembre del 2021 e viene trovata solo il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste in un parchetto. Ma è il modo in cui verrà ritrovata a farci aprire tanti scenari, tante ipotesi e molte piste alternative che a oggi lasciano spazio a tantissimi dubbi. Su quei dubbi la procura ha deciso di volerci vedere ancora più chiaro. Liliana viene trovata all'interno di due sacchi neri e le cause di morte sono riconducibili a un soffocamento proprio dovuto a quei sacchetti, una plastic bag soffocation, una morte che avviene relativamente in modo molto breve ma che può anche essere generata dal soggetto che ha deciso di compiere quell'azione. Infatti ad oggi, come abbiamo già detto, il caso era stato archiviato come suicidio. Quindi Liliana in quel contesto ha fatto tutto da sola. Purtroppo quei dubbi restano ancora e quindi la procura ha deciso di andare più a fondo su alcuni aspetti di questa vicenda, andando ad analizzare tantissimi punti. Nel breve video di oggi io però voglio concentrarmi solo su alcuni aspetti di questi accertamenti. Quello che fa nascere tantissimi dubbi sono le valutazioni fatte in merito al cadavere di Liliana. L'autopsia, secondo alcuni, non sarebbe stata condotta nel migliore dei modi e ci sarebbero gravi mancanze, gravi errori, punto di valutazione, su gli aspetti che riguardano le trasformazioni che il cadavere avrebbe subito e su, potenzialmente, colpi che non sono stati evidenziati all'interno di serie autoptica. Una delle prime cose che è stata contestata l'autopsia di Liliana Resinovich è la mancanza di rilevamento della temperatura corporea, che è uno dei parametri che solitamente viene estimato nel momento del ritrovamento. Quando cessano infatti le funzioni vitali, si presentano alcuni fenomeni conosciuti proprio come fenomeni abiotici, che sono quei fenomeni che intercorrono quando una persona purtroppo perde la vita. Questi tre parametri sono riconducibili al Livor Mortis, Rigor Mortis e l'Algor Mortis. Rispettivamente il Livor consiste nella formazione di possasi, che sono delle macchie che compaiono sul corpo ed hanno un colore solitamente rosso-violaccio. Questo è dovuto alla cessazione dell'attività del sistema cardiocircolatorio, quindi appaiono delle macchie perché il sangue, per forza di gravità, si deposita nelle zone di clivi, facendo assumere al corpo una colorazione particolare. Il Rigor Mortis invece consiste nel fenomeno della rigidità cadaverica. E poi abbiamo l'Algor Mortis, che invece è il fenomeno del raffreddamento del cadavere ed è anch'esso connesso alla fine delle funzioni termodinamiche cinetiche del sangue che solitamente scorre all'interno del corpo. Il decremento della temperatura corporea non va all'infinito, infatti abbiamo un limite e questo limite arriva quando il cadavere raggiunge la temperatura ambiente, ovvero la temperatura circostante. E in più dobbiamo sottolineare che questo decremento di temperatura non è lineare, infatti la temperatura decrementa pian piano e in modo diverso in base alle ore che sono trascorse dalla morte. Tant'è vero che questo parametro ci permette di stimare qual è l'intervallo dalla morte fino al momento di rilevamento della temperatura. Secondo alcuni la criticità sarebbe proprio in questo perché poteva essere un parametro che avrebbe permesso di stimare ancora in maniera più corretta la distanza dal momento del ritrovamento per l'appunto e il momento in cui Liliana perde la vita. A mio modo di vedere in realtà sono gli altri fenomeni ambiotici, forse, ad aver permesso di individuare già un range esatto che si allontanava tantissimo dal momento della morte. Questo a mio avviso è un qualcosa che è fatto comunque con criterio e con una certa logica. Perché se sono altri parametri a farmi capire che c'è una distanza di tempo tale che il decremento della temperatura abbia già raggiunto il suo massimo e quindi sia fuori dal range di calcolo per permetterci di individuare più o meno una tempistica esatta, non avrebbe poi senso andare a rilevare questo parametro. Semplicemente perché? Perché come abbiamo detto il decremento non è lineare. Tanto è vero, nelle prime tre ore la temperatura scende di mezzo grado all'ora. Nelle successive ore che vanno dalle sei alle otto abbiamo il decremento di un grado all'ora. Dopo questa seconda fase abbiamo una terza fase dove il decremento varia da tre quarti di grado ad un terzo di grado, fino a raggiungere il limite minimo che come ho detto è quel limite che si raggiunge quando il corpo ormai ha raggiunto la temperatura ambiente. Ovviamente la stima è una stima che non è molto precisa e dipende da tantissime condizioni che possono essere la corporatura della persona che ha perso la vita, il modo in cui questa persona era coperta in quel momento e ovviamente della temperatura esterna. E ricordiamo in tal senso che Liliana era scomparsa il 14 dicembre e stata ritrovata il 5 gennaio 2022 e quindi siamo nel periodo invernale e le temperature esterne si aggirano a intorno ai zero gradi. Può aver influito questo tipo di parametro anche nei processi di trasformazione cadaverica intercorsi sul corpo di Liliana? Lo vedremo tra poco. Subito dopo i fenomeni ambigliotici abbiamo un processo di decomposizione ordinario che dà vita poi a una trasformazione distruttiva che si succede in quattro fasi. Abbiamo uno stato cromatico dove il corpo comincia ad avere una colorazione verde e compare dopo le diciotto e trentasi ore. Uno stadio infisodematoso che è quello dove c'è la creazione dei gas e quindi questo stadio lo abbiamo solitamente dopo tre o sei giorni dalla morte. Abbiamo lo stadio collegativo che è la perdita dei tessuti molli superficiali e infine la scheletrizzazione. C'è da dire che il corpo di Liliana secondo chi ha condotto quella autopsia non era neanche arrivato a questo tipo di stadio e che quindi potenzialmente la morte è da ricondursi neanche a 60 ore prima del ritrovamento. Questo è lo scenario che si trovano davanti le persone che hanno analizzato il corpo di Liliana e per questo nasce uno scenario molto suggestivo che potrebbe sembrare addirittura fantasioso che è quello che Liliana è stata uccisa congelata e poi occultata nei due sacchi neri e portata nell'ex boschetto dell'ospedale San Giovanni di Trieste. Per andare a verificare questo tipo di evenizia in realtà non è stata fatta nessuna analisi. Questo tipo di dato, questo tipo di informazione non era presente all'epoca anche se era scassata, scartata a priori comunque l'ipotesi del congelamento. Quindi cosa è stato deciso di fare? Di andare ad analizzare proprio a livello biochimico la presenza di indicatori che potessero dare un dato certo su questo tipo di elemento. Tanto è vero che è stato richiesto un esame molto specifico su degli enzimi che si trovano all'interno del tessuto muscolare che vengono rilasciati dai mitocondri nel caso in cui un tessuto sia prima congelato e dopo scongelato e questo rileverebbe appunto il processo di congelamento del corpo di Liliana. Se dovessimo trovare all'interno di quei tessuti conservati questo enzima in altissime quantità vorrà dire che allora il corpo avrà davvero subito un processo di congelamento prima di essere occultato e questo spiegherebbe quindi il processo di trasformazione che è andato molto a rilento. Ma questo processo di trasformazione lento potrebbe essere dovuto anche alla semplice temperatura esterna? I dati meteo che cosa ci dicono riguardo a quelle giornate? Quella temperatura potrebbe essere sufficiente per mimare un processo di congelamento avvenuto magari in un pozzetto in un frigo con delle temperature bassissime? A questa domanda non abbiamo ancora delle risposte e quindi dovremo aspettare tutti i risultati di questo tipo di analisi. Personalmente penso che sia davvero suggestiva e fantasiosa un'ipotesi del genere e anche pericolosa soprattutto conoscendo la vita di Liliana che era una persona molto riservata quindi si poteva arrivare facilmente a soggetto che poteva avere in custodia quel corpo in un determinato pozzetto, frigo o in qualsiasi luogo dove il corpo possa essere tenuto a delle temperature molto molto basse. Se la risposta di questo accertamento invece dovesse essere negativa resterà ancora un'altra domanda che ci attanaglierà per sempre visto che comunque è certo che la morte potrebbe essere avvenuta solo pochi giorni prima del ritrovamento. Dove è stata Liliana dal 14 dicembre fino al 5 gennaio 2022? Un arco che ricopre quindi quasi le tre settimane. Questo sarà uno dei misteri più grandi da risolvere quindi io spero che si possa arrivare ad una risposta in termini brevi visto che ormai è da tantissimo tempo che si segue questo caso che è così intricato così complicato che ci ha divisi. Io personalmente ho sempre manifestato l'idea che Liliana la vita se la sia torta da sola. Ci siano tanti presupposti che possono farmelo pensare sia a livello psicologico sia a livello pratico. Per quanto possa essere triste lo scenario che è stato da prima ipotizzato dalla procura per me è ancora ampiamente percordibile perché non sono ancora state scritte nere sul bianco delle evidenze che attestino violenze sul corpo di Liliana. Si è parlato di macchie, fumefazioni che non mi sembrano essere state confermate in sede di prima autopsia. Con la resumazione del corpo di Liliana forse avremo ulteriori risposte anche su questo. Intanto io vi invito ancora a seguirci qui su Crendors e sono curiosissimo stavolta di sentire anche voi che cosa ne pensate. Quindi scrivete nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Quindi alla prossima!